Salve a tutti ragazzi e bentornati su Tutto Sbagliato. Oh, si è arrivati qui per un motivo, per il titolo, molto probabilmente, perché il dissing e la critica su YouTube tirano molto di più di un pelo di figa e lo sappiamo bene tutti, basta vedere alcuni numeri. Quindi, sì, parlerò di Dellimello, ma dovete aspettare, perché ho da dire e ringraziare alcune persone. Prima di tutto, quelli che sono venuti ai firmacopie, tra Milano, Bologna, Napoli, Modena e Roma, Milano, Bologna, Napoli, sì, tutti li ho detti, sono state 5-600 persone che sono venute a trovarmi ed è stato grandioso. Purtroppo non ho fatto la foto con tutti, ma state vedendo un po' di immagini perché ero solo e quindi mi veniva difficile fare le foto con tutta quella marasma di persone che sono arrivate, tant'è che bloccavamo librerie, fumetterie, eccetera. Ed è stato bello, è stato bello perché ho potuto ascoltare le vostre storie, ho potuto vedere la vostra emozione e mi sono emozionato. Anche io devo salutare e abbracciare tutti quelli che sono venuti con i lacrimoni. È stato difficile anche lì mantenere l'equilibrio e devo assolutamente fare gli auguri a una coppia e la faccio in video perché questi due ragazzi, non dico il nome, giusto per non imbarazzarli ulteriormente, però il ragazzo ha avuto la bellissima idea di regalare questo mio libro alla fidanzata con la proposta di matrimonio in allegato. E io mi sono emozionato tantissimo. E perché ha fatto questo? Perché ha detto posso imparare da alcuni errori e lo farò, voglio fare questo percorso di vita con te. E io... Comunque, devo dare un abbraccio a Chiara, tu sai perché? Perché ho letto anche le lettere, ho letto tutte le lettere che mi avete dato e mi hanno strappato il cuore, me l'hanno buttato in strada. È stato difficile, però almeno potevo stare a casa e potevo piangere quanto volevo. E poi, e poi, e poi... Vabbè, ripeto, gli abbracci, le cose belle che ci sono state... Wow! Devo solo ringraziarvi, devo assolutamente ringraziarvi. E detto questo, parliamo delle critiche. Perché? Perché ci sono stati dei video, ci sono dei video online di recensioni, belli, brutti, critici, meno critici. In generale io ne voglio ricordare tre. Quello di Dellimello, quello di Barbaroffa e quello di Mucchio Selvaggio. Mucchio Selvaggio che non conosce nessuno. Allora, uno ne parla male, fondamentalmente, ed è Dellimello. Raggiunge le centomila visualizzazioni, credo. Uno ne parla in maniera media, Barbaroffa, che è il più equilibrato, e uno ne parla molto bene, Mucchio Selvaggio, ed è quello che mi è piaciuto di più. Ma c'ha duemila visite? Duemila visite. E dici, eh Nicola, ma ti piace di più quello in cui parlano bene del libro? È normale? No? Occhio, perché non è normale. Perché Giuseppe, il creatore di Mucchio Selvaggio TV, mi conosce. La mamma di Giuseppe, no. La mamma di Giuseppe è un insegnante. E Giuseppe ha fatto questo esperimento, che per me è un esperimento sociale. Ha preso il libro e gli ha detto, mamma, gli agis di sto libro e poi ne devi parlare bene o male, non è importante. Questa signora ne ha parlato estremamente bene. È un insegnante e per me è stata un'emozione sentire qualcuno che non mi conosceva, perché questa signora, mi sembra che sia mi Floriana, non voglio sbagliarmi, non mi conosce e ne ha parlato bene. Ha detto, il modo di scrivere è fluido, è bello, è semplice, è adatto a tutti. Ed è, ripeto, un insegnante da tanti anni, non da uno o due. Non ci credete? Andate a vedere il video. Io non vi dico niente. Poi c'è Dalli Mello, che ha detto, il libro è banale, scritto di merda. Cioè, fondamentalmente faccio un sunto. Non è scritto poi tanto bene. È un video di 17 minuti in cui Dalli Domenico è un po' in difficoltà, in effetti. Non ho capito il perché. Gli ho detto io, parlane bene o male, a me non interessa. Perché sono pronto alle critiche. Perché allora faccio questo video? Perché siete stati in tantissimi a dirmi Nicola, che ne pensi del video degli Melli? Che ne pensi di... perché... cioè, dicci qualcosa. Io ho pure risposto nei commenti, tant'è che dovrei essere uno dei top commentatori sotto quel video. E io ho detto quello che pensavo. Senza dissing, senza queste critiche del cazzo che funzionano tanto su YouTube. Perché a me non interessa. Ci sono rimasto male? Beh, sì, ci sono rimasto male. Perché? Perché Domenico prendeva soltanto un punto di vista. Il suo. Ok? Ragazzo di 30 anni, credo circa, che ha avuto una vita magari più o meno facile o difficile e ha fatto le sue scelte. Nel mio libro si parla di diverse fasi di vita. C'è la parte in cui sono adolescente, c'è la parte in cui sono universitario e c'è la parte in cui sono il trentenne che scrive. Ok? Quindi è normale che alcune cose siano banali. E lo dico all'interno del libro. Lo ripeto in continuazione. Così come dico che non sono uno scrittore. Quindi il mio stile di scrittura può non piacere. Scrivo come parlo nei video. Ed è per questo che secondo me è adatto a tutti. Perché il video può fruirne chiunque. Il libro è ovvio che io l'abbia fatto per farlo fruire a tutti. Ora, perché ci sono rimasto male? Perché il suo punto di vista non è il punto di vista globale. E leggendo tra i commenti ho letto un sacco di messaggi che dicevano Ok, allora volevo prenderlo ma adesso non lo prenderò. E questa è una cosa sbagliata. È una cosa fondamentalmente sbagliata. Perché? Perché in poche parole Un ragazzo che potenzialmente poteva avere bisogno o non bisogno del libro Di quella lettura Non lo leggerà. Ed è triste questa cosa. Ed è profondamente triste. Perché se uno vuole provare a leggere una cosa E poi non lo fa a prescindere Perché crede ciecamente in una persona È sbagliato. Io quando recensisco giochi Lo dico spesso all'inizio, alla fine A me non è piaciuto ma voi provatelo Almeno, quel determinato gioco E questa è una cosa importante È una cosa assolutamente importante Poi un'altra cosa che non mi è piaciuta È questo, Domenico, questo è un messaggio che ti invio proprio Perché in un gruppo di YouTube Mi sono arrivati diversi screen In cui facevi vedere quanto avevi guadagnato Dalla pubblicazione del mio video Dalle prime 30.000 visualizzazioni mi sembra Avevi guadagnato un botto di soldi Quindi complimenti Però è una cosa brutta Cioè ti sei vantato Di quella cosa lì Ok, dovresti fare Il Redez dovrebbe fare un libro Tipo al mese E io diventerai ricco E questa è una cosa un po' triste Poi vediamo Se mi offrirai una birra Visto che stai guadagnando tutti questi soldi Su un video di questo genere Ora Quello che voglio dirvi è A me non mi importa Se voi leggerete o non leggerete il video Se ne farete un video di critica o meno Perché questo è l'ultimo video In cui parlerò di recensioni Se volete Un Se volete fare una cosa Compratelo su Amazon Lo comprate Lo leggete E lo rimandate indietro Perché a me dei soldi Non frega un cazzo Mettetevelo in testa C'è chi mi ha detto È un'operazione commerciale Mandate affanculo Non sapete niente Non sapete un cavolo di me Perché Se fosse stata un'operazione commerciale Ci sarebbe stato un editore più grosso alle spalle Un editore che non sbaglia A mandare libri Nelle librerie Il giorni di Natale Nelle librerie Ci sono stati Tanti ragazzi Che non sono riusciti a trovare il libro Perché Non esisteva Nelle librerie E in alcune librerie Non è arrivato il libro Tant'è che È ancora assente Tutto oggi Dovete preordinarlo Chiamando E poi forse arriva Quindi Operazione commerciale No io il libro L'ho scritto per me E poi per gli altri E siccome questa cosa Degli altri Sta diventando un Ho fatto bene Perché tante persone Mi stanno ringraziando Mi sono arrivate storie E ripeto Sono arrivate a me Poi potete crederci Oppure no Anzi Sono sicuro che qui sotto Nei messaggi Tante persone Che hanno letto il libro Scriveranno Quello che pensano Del libro Basta leggere Anche le recensioni Su Amazon Per esempio E io sono Assolutamente contento Di avere fatto Questa scelta In questo modo Questo è quello Che dovevo dire Non farò più video Relativi alle recensioni Lo ribadisco Perché è importante Quindi se uscirà Un altro Che ne parlerà Estremamente male Non me ne fregherà Un cazzo Parlatene come volete Io ho raggiunto Il mio obiettivo Io ho raggiunto Le persone che volevo Raggiungere E spero che tante altre Si uniranno al coro Anche solo leggendo E poi buttando il libro Nella spazzatura Oppure ridandolo indietro A me non interessa Se posso fare del bene Io lo faccio E sono sicuro Anzi Sono strasicuro Che ne ho fatto di bene Detto questo Vi saluto E vi auguro ancora Buone feste Ciao